Bene, oggi questa è la dimostrazione di come la Regione Puglia continua a investire sul materiale rotabile. Metteremo in circolazione altri quattro nuovi treni dell'azienda Stadler e quindi stiamo aumentando anche la capacità trasportistica oltre che a rispondere alle esigenze dei cittadini che ovviamente sono cambiate anche dopo il periodo Covid. Questo è un primo investimento, ne arriveranno altri treni, tre esattamente a tre e quattro casse in vista dell'apertura della linea nuova, quella che collegheremo Bari-Modugno precisamente con Grumo.